Ora si registrerà la conferenza. Ok, allora di nuovo benvenuti. Il tema del GeoBreak di oggi è appunto legato ai tool open source per il routing, il calcolo dei percorsi. E senza nessuna pretesa di esaustività, perché il tema è ovviamente molto ampio, vi raccontiamo un po' la nostra esperienza e in particolare due tool che vedrete qui già nel sommario, PG Routy e Open Service, in coordinato con Vroom, tool che abbiamo utilizzato nel corso dello scorso anno per alcuni progetti. Quindi partendo da alcuni concetti fondamentali, da una sorta di mini 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 glossario per capirci, per intenderci, andremo un attimo avanti per raccontarvi la nostra esperienza. Vai pure avanti Francesco. Ok, quindi parliamo di strumenti di routing, di calcolo dei percorsi, e ovviamente ciò presuppone l'esistenza di un grafo, una rete, un network, come lo vogliamo chiamare, che sostanzialmente è un sistema di elementi lineari che sono connessi tra loro, e quindi costituito da un insieme di archi legati tra loro dai nudi. Ora, questa rete ovviamente è l'esperienza di tutti, sia del tecnico che dell'utilizzatore basico anche di Google Maps, la rete, se pensiamo alla rete più comunemente utilizzata, la rete stradale, è ovviamente percorribile in vari modi. Si può ad esempio ottimizzare il tempo di percorrenza per arrivare da un punto A a un punto B, oppure si può scegliere un tipo di percorso che soddisfi determinate caratteristiche, per cui non ci siano, ad esempio, pedaggi, oppure si utilizzano solo un certo tipo di strade, ed è appunto un'esperienza che ormai è entrata nel bagaglio comune, la possibilità di percorrere un grafo in diversi modi, a seconda appunto dei vincoli che vengono associati agli elementi che lo costituiscono. Vai pure avanti. E quali sono questi vincoli? Cioè possiamo ad associare ad ognuno di questi elementi, archi o nodi, quelli che sono detti dei costi, dei costi di percorrenza che vanno a descrivere, diciamo, le caratteristiche di quel tratto o di quel nodo. Ad esempio, un costo può essere la lunghezza, il tempo di percorrenza a seconda del mezzo, oppure può essere anche la presenza di una one way, cioè di un senso unico, per cui in una certa direzione il costo sarà molto alto, talmente alto da non essere di fatto mai percorribile, e nell'altra direzione invece appunto sarà tale da facilitare appunto l'ingresso in quella direzione. Lo stesso si può fare anche con i nodi, laddove i nodi sono dei punti in cui avvengono degli eventi, ad esempio l'esempio di cui parleremo dopo è quello relativo ad un'azienda della nettezza urbana, che appunto deve calcolare il percorso ottimale per effettuare la raccolta di fiuti porto a porta, e quindi ognuno dei nodi della sua rete sarà a quel punto legato ad un costo, che è appunto dato ad esempio dal carico che ogni nodo va a supportare, questo perché ad esempio in un condominio il tempo di ritiro, in corrispondenza di un condominio e quindi del rispettivo nodo, il tempo di ritiro dei sacchetti sarà ovviamente maggiore rispetto a quello di una villaggia, che è letta, ad esempio. Quindi avendo un po' delineato quali sono i concetti fondamentali, vi rimandiamo però per approfondimenti a l'ampia bibliografia che c'è sul tema e nonché ad una serie di tutorial tra i quali abbiamo selezionato quello di due conoscenze di GITER, che sono appunto Federico Giannoli, che appunto fa una spiegazione di come recuperare i dati per il calcolo dei percorsi sul canale di Salvatore Fiendaca. Sì, piccolo inciso, poi magari i link li mettiamo nella descrizione del video su YouTube o li posso anche passare con i commenti, allora direi che li mettiamo nella descrizione del video. Vado avanti. Grazie. Arriviamo quindi al focus di questo incontro. Quindi i tool per il calcolo dei percorsi, e qui parliamo di tool open source, sono ovviamente molteplici. qui ne vediamo citati giusto cinque, che sono quelli che abbiamo brevemente approfondito, ma oggi parleremo esclusivamente di PG routing e open route service, che sono quelli in grassetto. Quello che più che altro mi premeva appunto di sottolineare, al di là appunto della molteplicità di tool che esistono, che ovviamente ognuno dei quali ovviamente va scelto in base alle esigenze specifiche del progetto, o del lavoro che si intende portare avanti, erano appunto queste due domande, cioè che cosa hanno in comune questi strumenti e su quale dati sono basati? La risposta ovviamente è nell'immagine ed è la stessa per entrambe le domande. Cioè tutti questi strumenti hanno in comune i dati di OpenStreetMap, non che non sia possibile utilizzare anche dati di altro tipo, ma sono fortemente integrati con OpenStreetMap, perché questo è essenzialmente per ragioni storiche, perché qualcuno di voi forse che nel settore da più tempo ricorderà che, ora non voglio dire date perché va a finire che la sbaglio sicuramente, comunque OpenStreetMap di fatto, lo sviluppo di OpenStreetMap è stato fondamentale nello sviluppo dei tool open source, cioè perché la disponibilità dei dati gratuiti, open, e comunque con tutte le caratteristiche che hanno appunto i dati di OpenStreetMap, hanno dato un forte impulso allo sviluppo dei tool open source, mentre in precedenza sul tema l'utilizzo di tool per il calcolo dei percorsi erano nati in relazione a dati proprietari, e mi riferisco ad esempio ai dati TomTom e precedentemente penso Navtech, ma potrei ricordare male il nome del tool barra azienda. E quindi diciamo questo, quello che oggi hanno in comune tutti questi tool è questa base dati comune, e non fa eccezione anche ovviamente PG Routing, che è appunto il primo strumento che molto brevemente descriviamo. Francesco scusami, grazie. Ok, quello di PG Routing talvolta viene descritto come un approccio alla risoluzione del problema di routing tradizionale, nel senso che è un approccio ovviamente integrato con un database, il che ha comunque dei vantaggi, cioè infatti di fatto PG Routing è un'estensione di Postgres, che va a integrare appunto le funzionalità, diciamo, e di Postgres e ovviamente di Postgis, e diciamo l'approccio appunto basato su database consente anche ovviamente di non effettuare grandi movimentazioni di dati, perché appunto avviene tutto all'interno del database stesso. Altri vantaggi derivano ad esempio dal fatto che è poi ampiamente integrato con appunto OpenStreetMap, nel senso che esistono una serie di tool che permettono agevolmente di importare il dato da, diciamo, il dato grezzo, il file appunto OSM, o anche PBF forse, direttamente in un database Postgres e nel formato che serve a PG Routing. Poi questi due tool ad esempio che citavo, OSM to PG SQL e OSM to PG Routing, in realtà funzionano in modo, cioè funzionano allo stesso modo, però ad esempio se non sbaglio il primo, in realtà poi richiede degli step successivi, che il secondo invece permette di evitare come la creazione della topologia, che di fatto però non è nient'altro che una funzione che consente di consolidare, appunto, il grafico. E per quanto riguarda poi, è un altro ovviamente punto, diciamo, molto, un altro vantaggio di PG Routing è ovviamente dato dalla flessibilità. Questo perché di fatto la risoluzione del problema, diciamo, di routing è essenzialmente fatta tramite una query SQL, il che permette da una parte di non avere limiti, laddove ad esempio altri tool invece sono basati su API, che forniscono, diciamo, appunto, delle finestre di interrogazione, chiamiamole così, diciamo, abbastanza delimitate, e dall'altro consente ad esempio una certa personalizzazione che appunto, diciamo, porta a risultati molto, diciamo, customizzabili a seconda del progetto di riferimento. Ad esempio, quello che si può fare con PG Routing è, diciamo, personalizzare e calcolare i costi che andrebbero di fatto nell'additional ops, diciamo, in questa query andrebbero nella parte finale della, diciamo, dello statement, andrebbe, diciamo, a calcolare i costi, diciamo, in un certo senso al volo, in modo da, appunto, riuscire, diciamo, a, magari, effettuare varie prove oppure dare, diciamo, generare, appunto, vari scenari. E, in sostanza, diciamo, quindi è uno strumento molto versatile. In questo, poi, in questo, in questo racconto vi raccontiamo, in realtà, poi, principalmente, di open service, perché, essendo uno strumento molto flessibile richiede, comunque, un un certo livello di conoscenza, anche del dal punto di vista teorico della teoria dei grafi, per cui, ad esempio, nell'affrontare un determinato problema relativo, appunto, rifiuti, diciamo, la gestione della raccolta rifiuti, di cui parlavo prima, abbiamo poi scelto open service, perché ovviamente, diciamo, da una parte per la velocità di implementazione, perché, appunto, con PG routing c'erano delle diciamo, degli aspetti teorici che, diciamo, presupponevano una certa conoscenza, anche di tipo matematico, ad esempio, del per cui era necessaria, ad esempio, una matrice di tipo asimmetrico che andava calcolata in modo particolare che è assolutamente fattibile, ma appunto non era compatibile con le nostre tempistiche, quindi per questo, diciamo, ci diciamo, ci muoviamo, appunto, nella direzione che ora vi racconterà direi che vi racconterà Francesco, e anzi lascio a lui la parola per parlare più nel dettaglio di questo di questo caso studio che ci ha portato poi all'utilizzo di open service ok, grazie Rossella allora sì, prima di partire dal momento che appunto parlerò di open root service e dal momento che è molto vasto ho pensato di concentrarmi su una parte di questo dei servizi che offre open root service e fare un piccolo esempio l'esempio è sostanzialmente un esempio scritto in python che poi magari spiego passo a passo almeno nei punti più importanti potreste anche provarlo voi anche in diretta oserei dire perché è un esempio preso dal sito di open root service l'unica cosa vi serve una una chiave per accedere a siccome utilizzerò l'API pubblica quella che espone pubblicamente open root service vi serve una chiave che potete generare semplicemente facendo un login sul sito che ho messo in chat quindi eventualmente se voi voleste sul sito trovate la tab esempi scegliete l'esempio è quello flood disaster response se non sbaglio il primo no leverage fleet scheduling for disaster response e per utilizzarlo dovete avere una una chiave per accedere all'API quindi diciamo che il problema partiamo dal problema e poi vediamo un attimo lo strumento come è formato il problema che sarà circa quello che andrò poi a far vedere condividendo lo schermo nell'esempio è quello di una multi servizi che gestisce la quota di rifiuti e appunto deve pianificare un sistema di raccolta di rifiuti il più efficiente possibile quindi quindi ha previsto x punti di raccolta che possono essere 100 1000 5000 a seconda di quanto è grande il quartiere e per ogni punto di raccolta ci sono top chili da raccogliere possono essere 100 chili in un punto 200 150 insomma a seconda del punto e appunto questa azienda ha a disposizione un certo numero di furgoni per il determinato quartiere in questo caso ho messo 3 ma potrebbero essere di più o di meno e appunto ogni furgone può portare un numero un certo numero di a una certa capacità in termini di chilogrammi per quanto riguarda i rifiuti che può portare poi va bene alcuni dati quindi da due partono i furgoni dove devono arrivare a depositare i rifiuti le domande che appunto l'azienda che le aziende che fanno questo lavoro dovrebbero farsi e penso si facciano e almeno quella con cui abbiamo collaborato noi se le faceva sono appunto il percorso che deve fare il furgone in maniera da metterci il meno tempo possibile l'ordine in cui vengono svuotati centri di raccolta quanti chili raccolgono i furgoni e quanto tempo impiegano volendo mettere in maniera più ordinata diciamo la descrizione discorsiva che ho letto per poi andare questa parte qua la riprendono all'esercizio sono il punto di partenza e di arrivo dei veicoli la capacità del veicolo che può essere a mille chili dipende dal furgone la finestra temporale in cui lavora il veicolo i punti di raccolta quindi la posizione dei vari punti la finestra temporale del punto di raccolta quindi appunto per raccogliere i rifiuti o per potrebbero essere anche delle consegne di un pacco Amazon se volessimo ragionare al contrario invece che raccogliere è consegnare appunto quanto ci si impiega tre minuti per punto può essere costumizzabile ogni punto può avere un suo tempo specifico e appunto la quantità di rifiuti presenti in punto di raccolta o se si dovesse fare una consegna il deliverable quindi quanto bisogna consegnare in ogni punto di raccolta quindi questo è il problema che vorremmo analizzare adesso nell'esempio che ho preparato l'ho semplificato un po' poi lo vedremo invece i punti di raccolta sono punti di consegna ma non cambia sostanzialmente nulla dal punto di vista del codice solo dell'interpretazione prima però di partire con l'esempio parlo un secondo dei due servizi che ho utilizzato che sono open root service la cui ottimizzazione del percorso si basa su Vroom quindi Vroom è un motore di calcolo scritto in C++ che appunto mira a risolvere questi problemi che però devono essere già impostati quindi questi problemi di vehicle routing problem che è quello che abbiamo appena descritto e mira a ottimizzare la soluzione quindi a cercare la soluzione ottimale per quanto riguarda i percorsi ho dovuto introdurre Vroom perché open root service che è lo strumento che andremo brevemente a vedere e quello che abbiamo utilizzato per fare il lavoro di cui accennava Rossella è possiamo dire che è questo framework che ha un sacco di servizi appunto basati sui dati geospaziali di OpenStreetMap e si possono consumare questi servizi in diversi tipi di applicazioni quindi non c'è solo l'ottimizzazione dei percorsi ci concentreremo su quello comunque ci sono anche appunto diversi servizi come la ricerca di punti di interesse il calcolo dell'esocrone il geocoding per quello che interessa a noi quindi per quanto riguarda l'ottimizzazione dei percorsi sono le matrici di distanza delle distanze e l'ottimizzazione del routing che si basa su Vroom quindi sostanzialmente il lavoro che fanno questi due strumenti per capire un po' come funzionano una volta che sono installati su un server in questo caso noi useremo l'API pubblica quindi non la nostra installazione particolare ma l'API pubblica che espone l'open root service quindi l'open root service calcola la matrice dei costi che è una tabella che contiene i tempi di percorrenza e le distanze in sostanza tra i diversi punti che è brevemente questa qui queste immagini prese dal sito di open root service e dopo che open root service ha calcolato questa matrice la dà in pasto a Vroom che è sostanzialmente frappato all'interno del servizio di open root service quindi noi quando quando faremo il piccolo esempio in python non vedremo Vroom perché è diciamo già dentro il servizio di open root service e Vroom usa la matrice dei costi che ha calcolato open root service per ottimizzare i percorsi e calcola il percorso più adeguato per i diversi veicoli quindi prima appunto di far partire la discussione uscirei un attimo dalla modalità presentazione poi proietto l'ultima slide condivido condivido il mio schermo con il codice allora sì se volete peraltro vi dicevo che potreste seguire anche voi perché gli esempi sono presi dal repository di di open root service potreste io mi sono fatto un ambiente virtuale con jupiter e tutte queste questi pacchetti che mi interessavano più qualcun altro nell'ambiente e ho lanciato jupiter notebook e ho rifatto l'esempio se però appunto questi 15 minuti ci potrebbero essere dei problemi potete andare qui e usare binder quindi aprendo questa pagina qua vi mando anche questo link che poi appunto come dicevo metteremo nella descrizione del del video e da questa pagina da questa pagina accedete qua e qua vi dovrebbe aprire gli stessi esempi che sono questi qua ecco io ho clonato il repository e cilioni locale più questo che ho appena scritto io e voi dovreste avere appunto in questo binder trovarvi questi esempi comunque al di là di queste note organizzative che appunto è un esercizio che faccio per farvi un attimo capire ma non è assolutamente necessario che lo replichiate almeno in questo momento non starò a spiegare tutto il codice la maggior parte comunque è abbastanza intuitiva molto facile e serve solo per creare i grafici infatti vedete che importiamo volume e volume plugin e appunto quello che ci interessa per l'analisi in sé è soprattutto open root service e eventualmente pandas che è una libreria non so se la conoscete per trattare i dati quindi io carico i miei dati se seguite l'esempio che c'è sul sito caricherà degli altri dati io ho caricato dei dati ho caricato dei dati sostanzialmente casuali che sono dei punti 25-26 punti a Roma e sono fatti in questa maniera quindi ci sono le coordinate e needed amount che è la quantità di unità che vogliamo andare a consegnare in questo caso come dicevo invece di fare dei punti di pick up da cui si prende la spazzatura solo per nomenclature a dire il vero ho deciso di mettere dei punti di consegna quindi ci sarà ogni punto avrà necessità di vedersi recapitato un'unità fondamentale di quello che dobbiamo consegnare che può essere un pacco un chilo di farina o quello che è per farvi vedere questi punti qua c'è un piccolo una piccola parte di codice che disegna i punti non la sto a spiegare anche perché non conosco il volume così bene comunque vedete che è centrata sull'area di Roma e i punti sono questi qua ho messo anche in verde il punto di partenza che è questo qua quindi di pot è il punto di partenza dei nostri furgoni che andremo a specificare un attimo qua sotto le caratteristiche vedete questi punti ogni punto ha il suo ID e la posizione per essere messi nello spazio e la quantità di quello che ha bisogno in questo caso è uno per tutti i punti per semplicità l'analisi era già complessa di suo visto che abbiamo tre furgoni caratteristiche del problema sono queste quindi abbiamo tre furgoni che devono ognuno con una certa capacità che è 300 kg e ogni furgone appunto lavora dalle 8 alle 20 si ferma in ogni punto per una certa quantità di secondi che dovrebbero essere due o tre minuti adesso vediamo più sotto e appunto vogliamo capire qual è il percorso migliore e quindi qual è il percorso migliore per questi tre furgoni si come ho detto il punto di partenza è questo qui quindi questo qua la capacità di ogni furgone è 300 ed è arbitraria diciamo potrebbero essere 1000 se fossero i chili o 1500 immagino i chili di 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 rifiuti che può trasportare al massimo un furgone potrebbero essere 500 il numero dei pacchi del corriere Amazon che può portare e via discorrendo il tempo operativo in cui possono lavorare i furgoni è tra le 8 e le 20 appunto la service location sono i punti quelli che vanno appunto da 1 a 25 o 26 e sono questi punti qua e appunto la service time window è la è il tempo in cui ci si ferma ogni punto per fare la consegna o per recuperare il il come si dice i rifiuti e appunto il service amount è la quantità che si deve consegnare in questo caso 1 per punto o che si deve che si deve recuperare quindi non so quanti chili di rifiuti produce il singolo si possono si devono raccogliere dal singolo punto allora sì qua ho messo tutte le informazioni per settare i dati perché poi adesso noi ci avvaliamo delle API pubblica di open root service bisogna dargli i dati in una certa maniera lo script appunto il notebook è preso come vi dicevo dal sito di di open root service quindi non ho fatto una gran fatica quando abbiamo quando abbiamo dovuto settare i dati per la multi servizi per cui abbiamo lavorato ho dovuto ragionarci un po' di più e comunque i dati li diamo in questa forma è abbastanza facile poi da capire quindi ogni veicolo ha un suo ID ha un suo punto di partenza la capacità e la time window in cui può lavorare come vedete questo tempo è espresso in posix e appunto dovrebbe essere tra le 8 di mattina e le 20 di sera appunto per parlare con l'API vi consiglio di non riesco a dettagliarla qua perché se no siamo già abbastanza avanti con i tempi tra 5-10 minuti vorrei stoppare l'esercizio comunque è quasi finito allora facciamo girare ogni punto e anche per quanto riguarda la lista dei punti di consegna ci sarà il dato organizzato in una certa maniera che comunque è abbastanza intuitivo una volta che abbiamo richiamato le librerie per lavorare con open root service che sono questa qua che avevamo come vi ricordate importato qui ok è abbastanza intuitivo dirgli come è organizzato il dato dei punti di consegna quindi possiamo iniziare l'analisi e l'analisi nonostante ci siano tutte queste righe queste qua servono solo come ho scritto qua per la visualizzazione del risultato l'analisi sostanzialmente si si fa qui bisogna come dicevo per quello che vi consigliavo se volevate seguire o se in un futuro volete riprovare a fare l'esercizio per vedere se può essere utile per non so il vostro business bisogna avere una chiave una chiave per accedere all'API di Operative Service in questo caso io l'ho salvata in questo ok text per non farla vedere al mondo visto che questa al mondo ha le quattro persone che sono collegate comunque visto che la registrazione poi è registrata e messa su YouTube quindi una volta caricata la chiave la chiave ce ne avvaliamo per accedere a questo endpoint dell'API che richiamiamo in Python con OARS Client Optimization in cui gli diamo i lavori da fare quindi i punti di consegna e i veicoli e quindi le caratteristiche dei veicoli geometry true vuol dire che prende in considerazione adesso non entrerai nel dettaglio comunque ci sono delle informazioni aggiuntive che OARS Open Service e Vroom si vanno a scambiare per quanto riguarda la geometria quindi dove stanno i punti uno rispetto agli altri e una serie di informazioni che non vado a dettagliare perché se no andiamo fuori tema quindi di per sé l'analisi viene fatta solo su queste tre righe e anzi una o due sono fatte per per caricare la chiave quindi su queste due righe ovviamente il motore di ottimizzazione che consiste in Vroom e di calcolo delle matrici dei costi che fa Open Service lavora fa una serie di operazioni e le fa a livello di di server dove è installato appunto dove sono questa cosa è un'API pubblica quindi i server di Open Service fanno tutti questi calcoletti e poi se li consegnano comodamente qualora ecco scusate qualora quindi scusate ok quindi adesso non andiamo a vedere tanto più sotto questo qua è il risultato abbiamo tre veicoli quindi ogni veicolo vedete veicolo zero fa una certa distanza e impiega tot secondi ogni veicolo fa il suo percorso e passa per tutti i punti quindi tutti i punti vengono presi e questa qua dovrebbe essere la configurazione ottimizzata almeno secondo i calcoli che ha fatto il buon Bloom ho aggiunto delle altre parti che erano state prese appunto dal 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 notebook che c'era su internet ma in questo momento le le salterei erano solo per mostrare i dati come vedete per il veicolo uno e per ogni per il veicolo zero scusate sì e per ogni veicolo quindi uno due tre se ce ne fossero dieci per tutti i dieci veicoli si possono ottenere i dati non solo in forma di mappa quindi qua potrebbe essere tirato giù in KML e messo ad esempio su Google Maps dato i vettori che poi seguono la via o messo in un navigatore come preferite alternativamente se lo volete in forma tabellare con un po' di magheggi con Pandas ma neanche così complessi lo potete stampare e vedete in ordine appunto i punti che vanno a essere interessati e anche il tempo di arrivo e di partenza desiderato almeno calcolato da Brum quindi come dicevo questo è il risultato che otteniamo quindi questi sono i percorsi che fanno i veicoli e sostanzialmente l'analisi di per sé si fermerebbe qua poi con questo dato decide l'azienda o appunto l'ente che ci sta lavorando cosa farci io avrei finito due cosette sull'API quindi allora ritorno a condividere scusate no si ritorno a condividere questo schermo qua quindi va bene vi ricordo l'ultimo incontro per quanto riguarda l'API pubblica in questo caso abbiamo utilizzato l'API pubblica per comodità perché bastava semplicemente generare la chiave e potervi accedere vi facevo vedere come farlo insomma potevate riprodurlo a casa molto facilmente ci sono gli esempi già scritti sostanzialmente e non si può usare l'API a fini commerciali se non sbaglio e in ogni caso ha una serie di limitazioni dal momento che che non si possono usare ad esempio per l'ottimizzazione più di tre veicoli più di se non sbaglio 400 punti di raccolta o di consegna quindi ha delle grandi limitazioni che sono state giustamente messe perché se ha un interesse a questo servizio se lo installa su un proprio server e lo fa girare e lo richiama come preferisce ecco quindi se provate a utilizzare i script lo script che vi ho fatto vedere con più di tre veicoli quindi più di tre furgoni vedrete che ci sono dei problemi non vi fa girare il tutto ecco quindi questo era un piccolo inciso anche sulle limitazioni dell'API che comunque sono dettagliate sul sito di Open Root Service direi che da questo esempio penso che ci sia da qualche parte sul nostro repository di GitHub ma ad ogni modo questo esempio ed altri sono riportati come dicevo sul sito di Open Root Service sotto la voce esempi e come dicevo sul repository di GitHub si possono anche far girare senza doversi installare localmente tutti i pacchetti quindi con binder se non sbaglio è possibile farli girare e vedere come funzionano io avrei finito quindi se ci sono domande o se curiosità o puntualizzazioni su quello che ho detto io o quello che ha detto Rossella volentieri ho ricondiviso lo schermo in cui potete vedere l'ultimo appuntamento per quanto riguarda il GeoBreak e ecco se no Rossella lascio nelle tue mani la registrazione visto che sei te che l'hai avviata poi decidi te quando farla terminare sì no veniva in mente diciamo un aspetto che abbiamo non abbiamo preso in considerazione in questa in questa breve diciamo panoramica che entrambi i servizi PG routing e open user diciamo hanno delle delle interfacce per per QGIS cioè ci sono dei plug-in che eventualmente permettono appunto di lavorare con diciamo con con l'API da una parte con il DB dall'altra per appunto interagire con i dati e calcolare direttamente diciamo i percorsi all'interno dell'interfaccia di QGIS diciamo su questo forse non abbiamo fatto un uso diciamo importante più che altro perché diciamo può essere molto utile per test o comunque per avere un riscontro subito diciamo immediato del problema che si va a affrontare io parlo per quanto riguarda per un service che c'è un plug-in che si chiama ORS se non sbaglio comunque è abbastanza user friendly e anche utile soprattutto per vedere come dipende dipende appunto da cosa ti serve ti colleghi al server su cui hai installato o all'API pubblica se vuoi utilizzare l'API pubblica e l'unica cosa che ad esempio non l'abbiamo utilizzato per il lavoro che abbiamo fatto appunto con GTR perché serviva che venisse fatto ogni giorno ogni top giorni questa operazione in maniera automatica quindi c'era era tutto generato a livello era tutto fatto a livello di codice invece che tramite che tramite plugin di QGIS in cui un utente deve entrare e fare un po' di click se invece una persona vuole avere più controllo consiglio questo plugin che è fatto abbastanza bene da quello che ricordo non l'ho utilizzato tantissimo per quanto riguarda open route service per quanto riguarda PG routing non lo conosco non so se te l'hai usato più di tanto no in realtà avevo più che altro ho visto qualche diciamo qualche tutorial però poi appunto per gli stessi motivi di cui parlavi c'eravamo concentrati su uno sviluppo direttamente sul DB in particolare non in questo caso appunto della multiservizi ma nel caso del calcolo di un percorso su una rete che aveva la particolarità di essere una rete ferroviaria che doveva essere percorsa in realtà da un per cui bisognava estrapolare il percorso che un drone doveva appunto percorrere in corrispondenza della di quella linea diciamo di quella linea ferroviaria e anche in quel caso avevamo optato per una per una diciamo per una soluzione direttamente implementata su diciamo sul DB però appunto per completezza ci teniamo a sottolineare che appunto che esiste anche ci sono anche appunto degli strumenti che permettono un po' di agevolare il diciamo il lavoro volendo diciamo di utilizzare QGIS come interfaccia se ci sono domande oppure anche esperienze diciamo rispetto a questi o altri tool siamo ben diciamo ben felici di sentire la diciamo la vostra la vostra voce altrimenti nulla forse ricorderei appunto l'ultimo appuntamento dell'anno con questo joke break che è affidato ai nostri colleghi del settore GNSS e diciamo appunto vi ringraziamo per averci seguiti e se volete rivedere la la registrazione appunto vi ricordiamo che il tutorial che vi ha mostrato Francesco e con i relativi link saranno pubblicati a breve sul nostro canale youtube e attraverso il quale potete anche entrare in contatto con noi con quelli oppure con altri con altri canali appunto che vedete qui descritti e vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona una buona giornata buona giornata grazie ciao buona giornata ciao Francisco buona giornata grazie arrivederci grazie ciao grazie